Come ha fatto questa ragazza a sopravvivere ad una caduta di oltre 3000 metri? Cosa ha ridotto in questo modo un bambino che stava semplicemente giocando a basket all'asilo? E infine, cos'è questa strana massa trovata nel cervello di una dodicenne dell'India? E come ha fatto a sopravvivere? Oggi rispondiamo a tutte queste domande per ricordarci che in realtà l'essere umano può essere molto forte e resiliente e può sopravvivere a situazioni davvero, davvero estreme. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi non una ma ben tre storie da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi a proposito della resilienza del corpo umano e soprattutto della mente umana voglio parlarvi di un argomento molto molto importante. Le persone di cui parleremo in questo video hanno dovuto sopportare molto ma come vedrete sono riuscite ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà e credetemi che sono tante. E i loro sono casi estremi, casi in cui sicuramente per riprendersi del tutto c'è stato bisogno di un aiuto psicologico non indifferente. Ecco, quello che voglio dirvi è che anche in situazioni molto meno estreme la terapia può essere la risposta. Come dico spesso nei miei video, intervenire a livello psicologico può aiutare a prevenire e controllare anche situazioni spiacevoli e addirittura irrimediabili come quelle di cui vi parlo praticamente sempre. Per questo, oggi voglio presentarvi Uno Bravo. Uno Bravo è un servizio di psicologia online che offre un supporto psicologico affidabile, competente ed empatico. Si impegna a garantire un percorso di terapia di qualità e soprattutto pensato su misura per ognuno, cosa fondamentale. Uno Bravo ha un bacino di oltre 5.000 professionisti e riesce a trovare quello adatto per le necessità specifiche dell'utente. È un servizio comodo, poiché è fruibile online da qualsiasi luogo e anche è accessibile a livello di prezzo. La terapia, ragazzi, è uno strumento fondamentale e spesso non ce ne rendiamo conto finché non decidiamo di affrontare appunto un percorso. Può capitare di avere tutto ciò di cui si ha bisogno eppure sentire di non stare bene, sentire la mancanza costante di qualcosa. Oppure può capitare di sentirsi non adatti, insicuri, fuori luogo. Ecco, spesso queste emozioni sono causate da episodi passati più o meno gravi che, se si vuole trovare un equilibrio e una stabilità, vanno approfonditi, abbracciati e affrontati. Uno Bravo può aiutare ognuno di noi ed è proprio questo il suo obiettivo. Vuole il meglio per le persone, vuole supportarle nel loro percorso verso il benessere psicologico. Stare meglio e conoscere se stessi, grazie a Uno Bravo, è più facile che mai e trovo che questa sia un'opportunità veramente bellissima e importantissima per il proprio benessere psicologico. Per agevolare quante più persone possibili, il primo incontro conoscitivo con un professionista di Uno Bravo è completamente gratuito. Quindi io ragazzi vi invito sinceramente, è molto importante, a provare il servizio. Nella descrizione trovate il link che vi indirizzerà direttamente alla compilazione del questionario di Uno Bravo, ovviamente gratuito, che ha come obiettivo quello di trovare il percorso terapeutico più adatto a ciascuno. Oltre a questo potete utilizzare il codice ANDREWFICE10 per usufruire del 10% di sconto, valido sulla prima seduta di terapia a pagamento. Sconto rivolto a tutti i nuovi utenti. Quindi ragazzi, compilate il questionario di Uno Bravo e soprattutto ditemi com'è andato una volta provato, se ve la sentite, perché mi farebbe davvero piacere sapere di avervi fatto conoscere qualcosa che può aiutarvi e farvi stare meglio. Detto questo, ringrazio infinitamente Uno Bravo per aver reso possibile la realizzazione di questo video e auguro a voi una buona visione. Era la vigilia di Natale del 1971, quando la diciassettenne Julian Kopke e sua madre Maria, probabilmente l'ho pronunciato male, comunque, sono sedite a bordo del volo Lanza 508. Partivano dalla città di Lima, in Perù, per raggiungere il padre della ragazza in occasione del Natale. L'uomo si trovava a Panguana, una stazione di ricerca biologica fondata nel 1968 che si estende su quasi 10 km quadrati nella foresta tropicale del Perù. Sarebbe stato un volo piuttosto corto, della durata di poco più di un'ora, se tutto fosse andato normalmente. Purtroppo per loro, però, un insieme di fattori, alcuni prevedibili, altri assolutamente inimmaginabili e fuori dal controllo dell'essere umano, hanno reso il volo un vero e proprio incubo. Il giorno prima del fatidico volo, Julian e sua madre avevano partecipato alla cerimonia del diploma nella scuola superiore della ragazza, a Lima. E, scherzo del destino, dovete sapere che secondo i piani iniziali le due sarebbero dovute tornare a casa a Panguana il 20 dicembre ma hanno deciso di rimanere a Lima qualche giorno in più per appunto partecipare a questa cerimonia del diploma. Se si fossero attenute al piano originale e non avessero partecipato quindi ai diplomi tutto sarebbe andato in maniera decisamente diversa. Una singola scelta. Un ripensamento di poco conto come questo ha per sempre cambiato il corso delle loro vite. Se fossero partite il 20, infatti, le due avrebbero evitato di volare con una compagnia chiamata Lansa, che già all'epoca aveva una brutta fama. Infatti, Lansa era una compagnia aerea peruviana fondata nel 1963 che dopo il volo 508 avrebbe cessato di esistere. Nei cinque anni precedenti, al 1971, la compagnia aveva già avuto due incidenti piuttosto importanti. Due dei suoi velivoli si erano schiantati a causa di alcuni errori dei piloti per questo la compagnia si era guadagnata una brutta fama. Lo stesso padre di Julian, una volta venuto a sapere che le due avrebbero viaggiato con la famigerata Lansa, le mise in guardia e disse loro di sceglierne un'altra, se possibile. E, se fossero partite il 20, avrebbero avuto più scelta, ma dato che avevano deciso di viaggiare il 24 per rimanere a Lima qualche giorno in più, ma comunque raggiungere l'uomo in tempo per Natale, la loro opzione era solo una. Prendere un volo con la compagnia Lansa. Tutti gli altri voli erano già al completo, per cui le due non avevano veramente altra scelta. Fecero i biglietti e si prepararono per partire. Il volo 508 aveva in programma di fermarsi a Pucalpa, luogo in cui Giuliana e sua madre sarebbero scese dal velivolo e avrebbero proseguito in macchina fino a Panguana. Il volo intanto sarebbe ripartito per i Quitos, la sua destinazione finale. Tutto a posto, no? Cosa poteva andare storto? È come fare praticamente un volo da Milano a Roma, cioè una cosa veloce, tranquilla. Le due salirono sul volo 508, che decollò senza alcun problema, con un totale di 86 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. L'aereo salì fino a raggiungere un'altitudine di circa 6.000 metri. Quasi subito però si verificarono delle forti turbulenze, il che è anche diciamo normale, specialmente perché nel tragitto del velivolo si era formato un grande e molto violento temporale. Le turbulenze fecero sobbalzare l'aereo su e giù in continuazione, mentre i bagagli hanno cominciato a cadere dalle cappelliere, colpendo addirittura alcuni passeggeri. Nonostante le condizioni agitate e comunque pericolose, l'equipaggio decise di continuare il viaggio. Era la stagione natalizia, erano tutti sotto pressione nella compagnia perché volevano rispettare il programma dei voli delle vacanze di Natale, volevano assicurarsi che tutti arrivassero a destinazione in tempo per le feste. Quindi, nonostante le turbulenze, andarono avanti. Intanto, all'interno dell'aereo, la situazione era diventata critica. La cabina cominciò ad oscillare violentemente, così tanto da buttare ovunque i bagagli dei passeggeri e mettendo in serie difficoltà le hostess, che non riuscivano nemmeno a reggersi in piedi. Ad aggravare la situazione, c'era anche il fatto che l'aereo con cui stavano volando non era affatto adatto per esistere a condizioni meteorologiche estreme. Si trattava di un Lockheed L188 Electra, e a seguito di accurate indagini avvenute dopo quel volo, si è scoperto che era stato assemblato interamente mettendo insieme pezzi di ricambio di altri aerei. Per questo ne è derivata una debolezza strutturale che il 24 dicembre del 1971 si è rivelata fatale. Ad un certo punto durante il volo, infatti, l'aereo venne colpito da un violento fulmine, che ha squarciato la fusoliera creando un'apertura nella cabina. In pochi secondi questa apertura si sarebbe lacerata sempre di più, facendo cadere il velivolo in picchiata. Pochi istanti prima, Julianne, legata a suo sedile, ha guardato fuori dal finestrino e ha visto effettivamente il lampo colpire l'aereo. Ha poi sentito un rumore terribile, un rumore che nessuno vorrebbe mai sentire durante un volo. Poi, la caduta libera. L'aereo cominciò a perdere quota ad una velocità impressionante, mentre la parte lacerata della fusoliera continuava ad ingrandirsi sempre di più. Dopo quella che sembrò un'eternità, una volta arrivati ad un'altezza di circa 3000 metri, la voragine dell'aereo si aprì completamente, squarciandolo in due. È in quel momento che la diciassettenne venne strappata fuori con forza, ancora legata al suo sedile. Nel giro di pochi secondi, Julianne si è ritrovata nel cielo a 3000 metri, in caduta libera, legata ad una fila di tre sedili. Lei era seduta in quello centrale, mentre gli altri due, vuoti, rimanevano attaccati alla struttura su cui erano collegati, ma svolazzavano pericolosamente vicino a lei, quasi a formare delle ali. Non so descrivervelo troppo bene, quindi ho fatto un disegnino, anche perché non ho trovato nessuna illustrazione online che potesse spiegarlo, quindi ecco. Era più o meno così, perdonate le mie doti mancanti nel disegno, però comunque era più o meno così, mentre cadeva, ok? Quindi i due sedili che aveva vicino a lei, vuoti, stavano praticamente svolazzando, però ancora attaccati alla base su cui erano attaccati tutti e tre i sedili, e hanno fatto proprio da ali, ok? Cioè non da ali, hanno attutito un pochino la caduta. Comunque ritrovandosi in quella situazione, la ragazza ha subito capito che avrebbe perso la vita. Anche una caduta di due metri può essere fatale per l'essere umano, figuriamoci cadere da 3000 metri senza paracadute. In quei minuti in cui precipitava, la ragazza deve aver provato un'angoscia assurda, ma anche un senso di rassegnazione, perché dai, era impossibile toccare la terraferma ancora in vita. Deve essere stato davvero orribile per lei, che stava precipitando alla cosiddetta velocità terminale, ovvero la velocità massima che un corpo in caduta libera può raggiungere. Per gli esseri umani, in caduta libera a pancia in giù, come nel caso del paracadutismo, è di circa 200 km orari. Quindi possiamo ipotizzare che stesse cadendo ad una velocità simile. Il suo ultimo pensiero, prima di perdere i sensi, fu che per lei non c'era più niente da fare. Sarebbe morta. Eppure, poco dopo, Julian aprì gli occhi sul suolo della foresta amazzonica del Perù. Era viva. Non poteva crederci. Era ancora legata al suo sedile ed era sopravvissuta ad una caduta che avrebbe ucciso chiunque. Aveva una clavicola rotta, uno squarcio profondo nel braccio, varie ferite alle gambe e una commozione cerebrale, ma in qualche modo era viva. Come è potuto succedere? In questo caso, semplicemente, non era ancora arrivato il suo giorno, perché è stata una serie di eventi casuali che tutti insieme hanno fatto sì che la caduta venisse ammortizzata di parecchio. È davvero assurdo. Innanzitutto, come vi dicevo, la ragazza è stata catapultata fuori dall'aereo ancora legata ai sedili. Ecco, i due sedili vuoti accanto a lei hanno fatto praticamente da paracadute, aumentando la resistenza dell'aria e quindi facendo rallentare un pochino la caduta. Oltre a questo, se ricordate, era in corso un forte temporale, causa del quale le correnti ascensionali di aria calda stavano salendo verso le nuvole, anch'esse quindi rallentando ulteriormente la caduta della ragazza. Ma poi, cosa più importante, lei non è caduta semplicemente sul suolo, altrimenti sicuramente sarebbe morta. Invece, per sua fortuna, si trovava appunto nella foresta amazzonica del Perù. Sotto di lei c'erano tantissimi alberi imponenti che andavano dai 6 ai 35-40 metri d'altezza. Quindi l'atterraggio sulla fitta vegetazione ha fatto sì che la ragazza colpisse rami su rami prima di toccare il suolo, il che sicuramente l'ha ferita, ma al tempo stesso ha rallentato la caduta abbastanza da risultare non fatale. Tutto questo insieme ha fatto sì che Juliane sopravvivesse. Però la sua agonia non era ancora finita. Era sola, ferita, in mezzo alla foresta, aveva perso gli occhiali quindi non vedeva bene e non era in una foresta qualsiasi. Lì c'erano e ci sono animali molto pericolosi, come per esempio i giaguari, per dirne una, dai quali non si può scappare, cioè se decidono che sarà il loro prossimo spuntino, sarà il loro prossimo spuntino. Oppure ancora le cosiddette rane d'ardo, ufficialmente chiamate Philobatest ribilis, che sicuramente ho sbagliato a pronunciare. Comunque che sono le rane più velenose al mondo. Pensate che con un solo tocco riescono a trasferire abbastanza veleno da uccidere dieci esseri umani. Ecco, come può una diciassettenne sopravvivere in quel luogo così pericoloso fino all'arrivo dei soccorsi che chissà quando sarebbero arrivati? Per sua fortuna lei non era una diciassettenne qualsiasi. Era cresciuta insieme ai suoi genitori nella stazione di ricerca di panguana che si trova proprio nella foresta. Era quindi ben consapevole di tutti i pericoli a cui poteva andare incontro e sapeva benissimo come affrontare la maggior parte di questi pericoli. Lì, durante la crescita, aveva imparato alcune abilità di sopravvivenza, quindi visto che aveva perso una scarpa nella caduta, decise di utilizzare l'altra per tastare il terreno prima di metterci l'altro piede nudo sopra. Perché sapeva bene che alcune specie di serpenti velenosi si mimetizzano tra le foglie e calpestandoli col piede nudo l'avrebbero quasi sicuramente morsa. Questa cosa di utilizzare la scarpa ovviamente sarebbe stata utile anche per non toccare le rane velenose, ma in generale per ogni tipo di animale del genere. Così facendo, riuscì ad evitare questi spiacevoli incontri e proseguì attraverso la foresta fino a trovare un piccolo torrente. Ci balzò dentro e proseguì con le gambe all'interno dell'acqua. In questo modo non si sarebbe più dovuto a preoccupare di rane ultraverenose, serpenti o chissà cos'altro. Poi, come penso anche voi sappiate, seguire un corso d'acqua è un'efficace tecnica di sopravvivenza in situazioni come questa perché è probabile che porti ad un insediamento umano o comunque in luoghi in cui c'è la presenza di altri esseri umani. Ecco, Julianne lo sapeva bene. Infatti continuò ad avanzare lungo il corso d'acqua per ben tre giorni interi. E il quarto giorno finalmente trovò qualcosa di vitale importanza, i detriti dell'aereo che si era schiantato al suolo. La ragazza si avvicinò e cominciò a frugare tra i rottami quando trovò un sacchetto di caramelle di dolci che fu a tutti gli effetti il suo primo pasto da giorni. Questa piccola fonte di nutrimento fu abbastanza da permetterle di continuare con la sua disperata ricerca della salvezza. Intorno ai resti dell'aereo purtroppo non riuscì a localizzare nessun altro sopravvissuto, quindi non poteva fare altro che continuare lungo il ruscello. Le giornate nella giungla erano lunghe, calde e affose, mentre le notti erano gelide. E la ragazza indossava solo un piccolo abito, molto corto, senza maniche. Tuttavia riusciva sempre a trovare un modo per coprirsi durante la notte, quanto bastava almeno per non morire assiderata. Ovviamente utilizzava nel modo giusto la natura che la circondava. Io e te non saremmo sopravvissuti, fidati. Comunque arrivata al decimo giorno di questo suo viaggio estenuante, ormai aveva finito la sua unica fonte di cibo, le caramelle, per cui era troppo debole per via della fame. E la sua ferita al braccio si era infettata, avevano cominciato ad esserci dei vermi, delle larve, che piano piano la stavano mangiando. Ma a questo punto, un altro miracolo. E questo video, ragazzi, sarà pieno di miracoli, nella prossima storia proprio letteralmente. Comunque, per chissà quale botta di culo, perché non saprei come chiamarlo, davvero scusate, non ho altri modi per definirla. Proprio quando pensava che ormai avrebbe fatto prima ad arrendersi, vide che il piccolo ruscello si allargava e diventava parte di un fiume. E fu allora che vide qualcosa che le diede un altro po' di speranza, una barca vuota. Inizialmente pensò che si trattasse di un'allucinazione, di un miraggio. Ma quando si è avvicinata e l'ha toccata, ha capito che era reale. E ciò significava che c'erano altri umani nelle vicinanze. Julian si guardò intorno e scoprì un piccolo sentiero che si perdeva tra gli alberi. Decise quindi di seguirlo. Camminò e camminò ancora, utilizzando proprio le sue ultime energie. E finalmente trovò una piccola capanna con un tetto fatto di foglie di palma. Per lei fu un momento di gioia immensa. Lì dentro poteva esserci qualcuno. Qualcuno che avrebbe potuto salvarla dopo oltre dieci giorni di dolore e smarrimento. Purtroppo però, una volta entrata, l'unica cosa utile che trovò all'interno fu una tanica di benzina. E ok, in circostanze normali non sarebbe utile. Ma lei, ricordandosi che una volta suo padre aveva utilizzato il cherosene per liberarsi delle larve che infestavano una ferita, decise di fare lo stesso nella sua ferita ma con la benzina. Ne sparse un po' sul braccio e ciò che ne seguì furono minuti interminabili di un dolore indicibile. La ferita bruciava e le larve per scappare dalla sostanza cercavano di nascondersi scavando ulteriormente nella sua carne, mangiandola ancora di più. Nonostante questo però Giuliano riuscì a rimuoverne circa una trentina. Quindi sì, nel suo caso la benzina, pur essendo nel bel mezzo della foresta, è stata molto utile. L'ha salvata da un'infezione che probabilmente l'avrebbe uccisa. Quindi la ragazza, dopo l'ennesimo ostacolo superato, decise di riposarsi passando la notte all'interno della capanna. E il giorno dopo, quasi le sembrò di sognare quando sentì delle voci. Erano i pescatori che facevano un ritorno alla capanna. Una volta lì loro rimasero ovviamente sorpresi nel trovare una ragazza in quelle condizioni, ma dopo aver ascoltato la sua storia, le prestarono le prime cure necessarie per poi trasportarle in una zona più abitata. E da lì, finalmente, dopo undici giorni persa nella giungla, Giuliana è stata trasportata in aereo all'ospedale più vicino. Proprio in aereo dovevano portarla? Vabbè. Comunque questa storia è finita benissimo. La ragazza si è ricongiunta con suo padre e ha ripreso le forze, ma non era affatto scontato che andasse così. Ripeto, sia io che te saremmo morti in quella giungla. Infatti in seguito si scoprì che altri quattordici passeggeri del volo erano sopravvissuti alla caduta iniziale. Cioè, hanno toccato terra vivi. Chi con ferite gravissime, chi con poche ferite non mortali come Giuliana. Purtroppo, tragicamente, sua madre Maria era sopravvissuta allo schianto, ma le sue ferite erano molto più gravi di quelle di sua figlia e infatti le fecero perdere la vita prima che potesse essere salvata. Il suo corpo venne scoperto il 12 gennaio del 1972. Comunque gli altri sopravvissuti, anche quelli in condizioni migliori, diciamo, non sono usciti vivi da quella foresta. Sono tutti morti tragicamente, uno dopo l'altro. Giuliana è stata di fatto l'unica persona sopravvissuta del volo Lanza 508. Dopo questa esperienza terribile, la ragazza è tornata nella terra nativa dei suoi genitori, la Germania. Lì si è ripresa del tutto e ha proseguito i suoi studi fino a prendere un dottorato di ricerca presso l'Università di Monaco. È poi tornata in Peru per condurre ricerche in mammologia, specializzandosi sui pipistrelli. E nel 2000, in seguito alla morte di suo padre, ha seguito le sue orme e preso il suo posto diventando direttrice del centro di ricerca di Panguana, proprio in mezzo alla stessa foresta che tanto l'aveva messa alla prova decenni prima. Nonostante questa esperienza sia stata sicuramente un trauma gigante, anche per via della perdita comunque di sua madre, Giuliana si è fatta forza e non ha mai perso la sua passione per quei luoghi che le hanno sia dato che tolto tanto. La sua storia ci insegna che nonostante le difficoltà, l'essere umano può essere forte, resiliente e sopravvivere a situazioni inimmaginabili. Ci insegna anche qualche piccolo trucchetto per sopravvivere in una foresta che può sempre essere utile onestamente. Ma la sua, quella di Giuliana, non è l'unica storia incredibile. Ci sono in realtà tantissimi esseri umani che sono riusciti a tenersi stretta alla vita. E oggi voglio parlarvi di altre due storie. Saranno diverse da questa, ma comunque altrettanto incredibili. Prima di continuare raga, fatemi il favore di controllare se siete iscritti. E che cavolo dai, la metà di chi guarda i miei video non è iscritto. Non va bene. Iscriviti dai. Controlla se sei iscritto. Se sei già iscritto, tutto a posto. Se non sei iscritto, iscriviti. Non costa niente. Possiamo continuare. L'11 febbraio del 2006, un bimbo di soli 5 anni di nome Jake Fink Bonner sta tranquillamente giocando a basket con i suoi compagni d'asilo. È una giornata come tante altre a Ferndale, Washington. E sicuramente Jake non si aspetta ciò che gli sta per accadere. Mentre gioca spensierato, nota un'opportunità per mandare a segno un canestro. Quindi si prepara, prende la mira e lancia la palla. Intanto però alcuni di suoi compagni che stavano giocando nella squadra avversaria gli piombano addosso, facendo virare la palla e facendo cadere il piccolo Jake. Il bambino cade di faccia, sfrega il volto sul campo da basket e comincia a piangere a dirotto. È un piccolo incidente alla fine, sarebbe potuto capitare a chiunque e infatti anche le conseguenze non sembrano essere troppo preoccupanti. Jake ha il labbro ferito a causa dell'impatto col suolo, ma oltre a questo sta bene. I suoi genitori, però preoccupati, lo portano dal dottore per vedere se si fosse rotto qualche osso nel volto. Jake infatti continuava a piangere e sebbene fosse normale per un bimbo della sua età, i genitori hanno comunque deciso di fare dei controlli, giustamente. Bene, il dottore dice loro che le ossa del piccolo sono a posto, così gli prescrive qualche esame da fare e poi lo manda a casa con un labbro un po' gonfio ma tutto sommato sotto controllo. Che cosa cavolo potrebbe andare storto in una situazione del genere? A pensarci non viene in mente nulla, eppure i giorni successivi sarebbero stati durissimi per il povero Jake. Una volta a casa, il bimbo comincia ad avere i classici sintomi di un'influenza e ancora una volta niente di troppo preoccupante, ma più passavano le ore, anzi i minuti, e più Jake si sentiva male. La sua condizione sembra precipitare da un momento all'altro senza un apparente motivo. Così il giorno dopo i genitori, che si chiamavano Elsa e Don Fink Bonner, decidono di riportare il figlio dal dottore. Si chiamano, non si chiamavano, sono ancora vivi. Comunque, oltre ai sintomi di influenza e al labbro rotto, il suo viso aveva cominciato a gonfiarsi a dismisura. Il dottore dice loro che non riesce a capire il motivo di queste condizioni e suggerisce ai Fink Bonner di recarsi in ospedale. Una volta lì, i medici determinano che il piccolo doveva essere mandato al Children's Hospital di Seattle con molta urgenza. Così lo trasportano nella struttura con un elicottero, mentre i suoi genitori si recano lì in auto in modo da stargli vicino. Molto in fretta, i medici dell'ospedale di Seattle riferiscono ad Elsa e Don che tutto ciò che possono fare è provare a salvare la vita di Jake. Ma come cavolo può una semplice caduta ridurre in condizioni così disastrose un bambino in salute? Cos'era successo davvero? I medici fanno test su test su povero bambino per provare a rispondere a questa domanda, ma nulla sembra dare una risposta. Intanto le sue condizioni peggiorano a vista d'occhio. Gli danno antibiotici, antidolorifici e tutto il necessario per provare quantomeno ad alleviare i sintomi, ma nulla sembra essere efficace. A questo punto la testa del piccolo si era gonfiata talmente tanto da aver raggiunto le dimensioni di, pensate un po', una palla da basket. Ma sembrava anche che alcuni dei tessuti del volto stessero cominciando a lacerarsi e a marcire dall'interno, mentre il gonfiore si propagava anche al collo e al petto. I medici gli dicono molto in fretta ad Elsa e Don che la prognosi del piccolo era in fausta. In altre parole, li informano del fatto che con molta probabilità Jake non sarebbe sopravvissuto. Queste le parole dei medici secondo le testimonianze di Elsa. Se siete persone religiose dovete pregare, dovete portare qui la vostra famiglia perché stiamo cercando di salvargli la vita. A questo punto, un sacerdote amico di famiglia, padre Tim Sauer, viene chiamato da I think Bonner per visitare il piccolo Jake, ma non sarebbe stata una visita piacevole. Il sacerdote va lì, nella stanza di Jake, per dargli l'estrema unzione, un rito religioso che si effettua su chi sta per morire. Insomma, le speranze che Jake uscisse vivo dall'ospedale ormai erano misere, quasi inesistenti. E mentre il sacerdote praticava il rito, i genitori del bambino provavano a trovare l'ultimo ballume di speranza nella preghiera, avvolti da un dolore e una tristezza inimmaginabili. Ma poi pensateci, in quel momento non sapevano, non avevano idea del perché il figlio stesse così male. Eppure gli era stato detto che molto probabilmente sarebbe morto. Ma perché? Non avevano una spiegazione e questa deve essere una delle cose peggiori che possono accadere ad un genitore. Per via delle condizioni ormai disastrose del piccolo Jake, i familiari chiedono ai conoscenti e amici della loro chiesa di pregare per lui, perché ne avrebbe avuto tanto bisogno. I Fink Bonner sono molto religiosi e in casi come questo sicuramente avere fede è un aiuto non da poco. Infatti padre Tim Sauer, dopo aver dato l'estrema unzione a Jake, dice ai suoi genitori di pregare per una figura nello specifico che avrebbe potuto aiutare il piccolo a guarire. Questa era Cateri Tecaquita, una religiosa nativa americana del XIX secolo, venerata dalla chiesa cattolica del Nord America. A questo punto, passato ormai qualche giorno dall'incidente, familiari, amici e conoscenti e sconosciuti cominciarono ad unirsi in preghiera evocando Cateri al fine di aiutare il piccolo. Un giorno, quando ormai erano passati due mesi dall'incidente, la zia di Don, ovvero il padre di Jake, quindi la prozia di Jake, sto sbagliando? Non lo so, vabbè, la sorella del padre di Jake era una suora che abitava a Seattle, no? Ecco. Un giorno, due mesi dopo l'incidente, questa zia suora decide di andare a trovare il piccolo all'ospedale per vedere come stesse e per pregare per lui, ovviamente. Prima di andare, però, aveva chiesto ad Elsa e a Don se potesse portare una sua amica suora con lei, dato che quel giorno sarebbe stata in sua compagnia. Bene, i genitori di Jake le avevano detto che non c'era assolutamente nessun problema e anzi l'hanno invitata a portare anche questa sua amica suora, perché anche le sue preghiere sicuramente non avrebbero fatto male. In tutto ciò, tenete conto che i medici continuavano a sottoporre il piccolo a diversi interventi per rimuovere in sicurezza la pelle nel suo volto, che stava ormai marcendo, letteralmente. E ovviamente non si riusciva ad arrivare ad alcun risultato. Comunque, quel giorno arrivano le due suore a far visita al bambino, che come prima cosa salutano Jake e i suoi genitori, e poi una delle due, l'amica della zia di Don, si presenta. Dice di chiamarsi Suor Cateri, che per assurdo è lo stesso nome della figura religiosa a cui il prete aveva detto di rivolgersi durante le preghiere. Questa suora e la zia di Don portano in regalo anche una reliquia proprio di Cateri de Cacuita, contenente un vero pezzo di un suo osso. Mettono questa reliquia sopra la spalla del piccolo e poi cominciano tutti a pregare. Inutile dirvi che i genitori e parenti di Jake pensano subito che la sua presenza, la presenza di Suor Cateri, dico, fosse un segno di Dio. Un segno che stava a significare che Dio aveva ascoltato le loro preghiere e aveva mandato un aiuto. Intanto, nelle settimane precedenti, i medici avevano scoperto qual era la condizione che aveva contratto Jake. E era peggio di quanto chiunque si aspettasse. Si trattava di un batterio, chiamato in inglese flesh eating bacteria, letteralmente batterio mangia carne. Il suo nome in ambito medico è fascite necrotizzante e ha una mortalità, a livello mondiale, del 73%. Questa condizione è causata appunto da dei batteri, soprattutto streptococchi del gruppo A, che possono entrare in circolo e infettare una ferita se questa entra a contatto con una superficie in cui i batteri sono presenti. In questo caso è il campo da basket in cui stava giocando Jake. Come si evince dal nome e dalla condizione, questi batteri producono delle tossine nella ferita infetta che alla fine portano alla necrosi dei tessuti, o in altre parole alla morte dei tessuti. Se non si agisce prontamente, con forti dosi di antibiotici e terapia chirurgica, la malattia è quasi sicuramente mortale. Una volta capito di cosa si trattava, i medici fanno di tutto per tenere a bada il batterio, ma nulla sembra funzionare. O almeno fino a quando appunto le due suore non vanno a fargli visita. Il giorno dopo, infatti, i medici chiamano in disparte i genitori di Jake e dicono loro che, per qualche motivo che non riuscivano a spiegarsi, il batterio aveva cessato di agire. Si era fermato. L'infezione in qualche modo non stava progredendo. Jake rimane in ospedale per ancora un altro mese, periodo in cui i medici continuano a fornirgli le cure per non rischiare una ricaduta, ovviamente. Dopo questo mese però tutto sembra andare alla perfezione. Il piccolo si riprende, il batterio viene debellato e finalmente Jake può tornare a casa. Se il batterio non avesse cessato di agire improvvisamente e senza spiegazione, oggi non sarebbe vivo. E questo è sicuro. Nonostante le conseguenze di tale patologia rimarranno per sempre impresse nel suo volto, Jake si è ripreso totalmente, cosa non scontata. Questo è lui circa un anno dopo insieme ai suoi amici. Ovviamente la famiglia del piccolo ha subito gridato al miracolo e ha quindi presentato una domanda al Vaticano per canonizzare la santificazione di Cateri Tecaquita. Non lo dirò mai più, eh. Secondo loro comunque questa santa aveva messo in atto un vero e proprio miracolo guarendo Jake. Il Vaticano quindi ha indagato su questo caso con minuziosità, scoprendo che i medici che avevano in cura il bambino non avevano la minima idea del perché il batterio si fosse fermato. Per loro non c'era davvero spiegazione. Così, nel 2012, Cateri viene canonizzata da Papa Benedetto XVI. Per molti credenti si è trattato di un vero e proprio miracolo religioso e in effetti non sembra esserci altra spiegazione. Tra l'altro Jake ha partecipato alla cerimonia di canonizzazione a Roma insieme alla sua famiglia nel 2012 e qui invece lo possiamo vedere insieme a Suor Cateri, quella che gli aveva portato la reliquia della santa. Ora il ragazzo ha 23 anni e sta bene. I segni su suo volto sono notevolmente migliorati e ha fatto un video su YouTube ormai più di un anno fa in cui ha raccontato tutta la sua storia. Quel video è stata una fonte molto importante per raccontarvi quello che gli è successo. Comunque Lee spiega che sta studiando al college, ha in programma di prendere un dottorato, ha diversi hobby tra cui ancora il basket e crede ciecamente che a salvarlo sia stato proprio un miracolo da parte di Cateri. Anche lui, come Julian, nonostante il trauma gigantesco, non ha smesso di seguire le sue passioni, compreso il basket, che era lo sport che stava facendo nel momento in cui ha contratto la malattia che molto probabilmente l'avrebbe ucciso. E adesso voglio chiedervi, secondo voi si è trattato a tutti gli effetti di un miracolo oppure pensate ci possano essere altre spiegazioni. Tenete a mente che i dottori che l'avevano in cura non ne hanno trovate altre. Al contrario di ciò che si può pensare, il nostro cervello è un organo straordinario. Non solo è il maggior responsabile di tutto ciò che facciamo letteralmente, ma è anche in grado di continuare a funzionare in maniera ottimale anche dopo gravi infortuni o lesioni. È vero che siamo fragili, ma a volte il corpo umano riesce ancora a sorprenderci. E sono sicuro che dopo aver sentito la storia della dodicenne indiana Nita Jugghi, rimarrete sorpresi anche voi. Nel 2016 Nita soffriva già da qualche mese di diverse condizioni piuttosto gravi. A volte le venivano convulsioni, aveva costantemente mal di testa e avvertiva una costante sensazione di debolezza e spossatezza. Sicuramente non normale in una ragazzina di 12 anni. Era da più di due anni che questi sintomi avevano cominciato ad insorgere molto gradualmente. Ma nonostante suo padre l'avesse portata da diversi medici e dottori, nessuno di loro era riuscito a trovare una causa e quindi nemmeno una cura a questi strani sintomi. Spoiler, non avevano proprio neanche cercato di indagare. Vabbè. All'improvviso poi, in un giorno come un altro, i suoi sintomi si intensificarono, diventando debilitanti. A soli 12 anni, Nita rimase totalmente paralizzata nel lato destro del corpo, apparentemente senza una ragione. Questo le impedì di svolgere anche le azioni più semplici, come banalmente nutrirsi. Aveva costante bisogno di supporto e assistenza. Così, dopo il repentino peggioramento delle sue condizioni, i genitori la portarono d'urgenza all'ospedale, dove finalmente i medici le fecero una risonanza magnetica, grazie alla quale scoprirono questo. La ragazzina aveva un'enorme massa nel cervello, delle dimensioni paragonabili a quelle di un pompelmo. Circa metà della grandezza totale del suo cervello. È assurdo! In seguito a studi più approfonditi, si scoprì che si trattava di una cisticercosi cerebrale. Una condizione decisamente grottesca è pericolosa causata dalle uova di Tenia, conosciuta anche come verme solitario. Queste uova, una volta ingerite, si trasformano in larve che possono raggiungere diverse parti del corpo umano, a differenza del verme solitario. Nel caso di Nita, è probabile che anni prima avesse ingerito le uova di questo parassita, mangiando cibo contaminato. Queste uova si sono poi fatte strada fino a raggiungere il cervello, dove hanno formato la ciste nella quale avevano vissuto per almeno otto anni. Almeno dagli otto ai dieci anni. Il fatto che Nita fosse in vita è ancora una volta un miracolo. Se la ciste si fosse rotta, sarebbe morta immediatamente. Ed è anche assurdo che in tutti quegli anni in cui l'aveva avuta nel cervello, non aveva manifestato sintomi. Era tutto cominciato appena due anni prima, quando si stima che avesse la ciste da almeno sei anni. Col tempo la massa è cresciuta sempre di più, ovviamente all'inizio non era così grande. Comunque crescendo è arrivata a danneggiare il cervello proprio per via delle sue dimensioni. Pensate che pesava più di mezzo chilo. Dopo un'operazione chirurgica durata due ore e mezza, la ciste è stata rimossa con successo e intatta, salvando così la vita della povera Nita. Cioè, poteva accadere di tutto. E in questo caso la fortuna ha giocato un ruolo imprescindibile. Adesso Nita è guarita del tutto, i suoi sintomi compresa la paralisi sono totalmente spariti a sole due settimane dall'intervento. Tutto come se nulla fosse successo. Wow. Questo è il potere del corpo umano. È il nostro potere. Il suo cervello era sotto pressione, stava dando segnali e sintomi preoccupanti, dai quali spesso non si può tornare indietro. È bastato rimuovere la causa della pressione per far sì che guarisse totalmente in pochissimo tempo. È assurdo. Quindi sì ragazzi, siamo molto fragili, possiamo morire da un momento all'altro, che ansia, ma in realtà in tantissimi casi, davvero, ragazzi ce ne sono tantissimi, abbiamo dimostrato che quando si tratta di situazioni tra la vita e la morte, il nostro corpo reagisce con tutto se stesso, come una perfetta macchina, in grado di guarire da qualsiasi cosa. La trovo una cosa bellissima. Mi dà speranza. Magari, boh, sì, mi dà speranza. Fatemi ovviamente sapere cosa pensate di queste vicende, anzi, se conoscete degli episodi simili, magari accaduti a voi o ai vostri familiari, fatemelo sapere qui sotto, perché sono sicuro che avrete una marea di storie del genere da raccontare. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto torneremo in Giappone, perché voglio finalmente raccontarvi una storia che mi chiedete sempre, 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 ogni giorno. Ecco, tra pochissimo ne parlerò anch'io e non sarò solo, avrò bisogno di aiuto. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale così da rimanere aggiornati su quella e le tantissime altre storie che ho in programma di raccontarvi. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì. A questo venerdì. con un altro file. Ciao!